Oggi ve lo dico subito, gioco in casa, gioco assolutamente in casa, perché chi ricordiamo oggi? Lo svegliamo subito aprendo il cassetto, mi avvicino con una certa cautela. All'interno penna e calamaio, eccoli qui, come si scriveva un tempo, no? E quando io vedo penna e calamaio mi viene in mente una scena mitica, ricordate Peppino, De Filippo e Totò nel famoso film Totò, Peppino e la mala femmina, quando scrivono la lettera alla mala femmina, punto, due punti, punto e virgola, virgola, due punti, insomma esageriamo perché sennò sembriamo provinciali. Insomma oggi parliamo di Peppino, De Filippo e lo facciamo con due volti importanti perché ci ricorderanno l'importanza di De Filippo nel mondo del cinema ma anche ovviamente del teatro. Grazie per essere con noi a Michele Mirabella, volto noto della tv, autore e conduttore ma anche attore e regista teatrale. Un ringraziamento che essendo Antonio De Maria, ispettore del lavoro in pensione, napoletano d'occhio come me e nipote della signora Ida che lavorava nella casa natale dei fratelli De Filippo. Lei peraltro davvero appassionato ha anche condotto una ricerca per le strade del suo quartiere sulle case di scarpetta e i suoi figli. Grazie ad entrambi per aver accettato il nostro invito. Ma perché ricordiamo Peppino, De Filippo? Ce lo dice come sempre Simone. Beh Massimiliano perché domani che è il 27 gennaio ricorda l'anniversario della sua morte che è avvenuta nel 1980. Peppino, De Filippo ci ha lasciato un patrimonio di commedia e di interpretazione memorabile, sempre guidato da un monito che amava ripetere spesso. Far piangere è meno difficile che far ridere. Allora Michele, io partirei proprio da qui. È così? Far piangere è meno difficile che far ridere? È perfetto. In tutti i camerini si sente ripetere. A far piangere sono più o meno capaci tutti di far piangere. Gli attori, quelli che si sono diplomati, anche quelli che hanno guadagnato il diploma con la dura corvè e con la gavetta che oggi non si sa più neanche cosa voglia dire, cosa significhi. Far ridere è terribilmente difficile perché è una questione non soltanto di testo, è una questione di interpretazione. Se tu leggi il testo celeberrimo a cui pare l'egenda vuole, e non solo leggenda, che si sia applicato a Ettore Scola, mi compassante, di punto, punto e vingola della lettera, che tu hai detto prima di andare in onda a essere uno dei momenti più felici del cinema comico italiano. È vero. È così? Se tu leggi quel testo non fa ridere. È un elenco di segni di interpunzione, di ortografia, diciamo. Quello che fa ridere è la perfetta armonia tra i due straordinari geni del teatro comico, e non solo, che hanno interpretato il ruolo di protagonista e spalla. Dove la spalla, in questo caso, sono tutti e due. Guarda l'atteggiamento di Peppino intento come uno scolaretto con la penna d'oca a fare le anellate, a scrivere le anellate, si chiamavano così. Mentre l'alterigia da docente improvvisato del principe De Gurtis è lì contro la finestra con le veneziane. Ora, lì si tratta proprio di talento e far ridere è difficile. Al cinema poi. Chi era Peppino De Filippo? Era un grandissimo attore e un bravo scrittore di commedie. Pensa che Raffaele Otrumbone, Raffaele Otrumbone. Ecco, lì vediamo una foto di famiglia dove sono immortalati con la madre e il padre, Edoardo Scarpetto. Guarda la faccia di Edoardo Scarpetto. Riassume le facce di tutti e tre i figli. C'è un pezzo di figli. È incredibile. Era un gaudente. C'è un pezzo bellissimo nel libro di Peppino. Bellissimo libro anche quello. Una famiglia difficile. Ecco, perché una famiglia difficile? Perché era una famiglia difficile? Una famiglia difficilissima. Qual era la prima domanda però a cui non ho risposto riguarda chi era Peppino? Era un grande attore, un grande, nel Don Raffaele Otrumbone con quella commedia sono vissuti, hanno campato a lungo tutti e tre i De Filippo. Non dimentichiamo Titina e oltre Edoardo, ovviamente. Titina era la ragione per la quale, dice Peppino nel libro, per la quale fino all'ultimo, allo spasimo, hanno tentato di rimanere uniti i fratelli. Soprattutto a opera di Peppino va detto, più che, diciamo così, per la tenacia di Edoardo. La storia del signor De Maria si incrocia con la storia dei Scarpetta, no? Perché sua nonna va a lavorare in casa loro. Che periodo era? Era all'inizio del Novecento. Mia nonna era nata nel 1886 e per ragioni veniva da una famiglia che non se la passava male, diciamo. Poi per alcune vicende familiari fu obbligata ad andare a lavorare. Venne nello stabile dove abito tutto il regno, dove c'era una piccola sartoria e lei frequentava la casa degli Scarpetti per fare quei piccoli aggiusti sartoriali. La piega che si è scucita, il bottone staccato, il melletto sruscito. Ma era davvero una famiglia difficile, eh? Che cosa le raccontava sua nonna? Mia nonna mi parlava molto di Scarpetta. Là le famiglie erano più d'una, eh? Ah, sì. Perché... Questo era il problema. Mia nonna mi diceva che Scarpetta aveva un po' figli sparsi per tutto a Napoli. Si parla di Ernesto Muro, padre di Roberto Muro. Pensi che li radunava i figli e da tutti pretendeva il baciamano. Il baciamano, sì. È vero? Sì, sì. Ma solo i tre ufficiali? No. No, gli ufficiali non esistevano per lui. Gli ufficiali ufficiosi se la pigliavano con la legge che diceva eh, la legge non ci permette di naturalità. Non era vero. Perché in realtà ne aveva, eh, sparci un po' per Napoli. Forse voleva fare più compagnie teatrali. Eh, questo era l'obiettivo. E poi l'obiettivo era monopolizzare il teatro italiano. Potevo aggiungere che mia nonna vi parlava di Scarpetta come un individuo un po' spaccone. Eh, sì. Un po' di persona che scaruzzava per il quartiere per farsi vedere. Gran mangiatore, caudente. Perché lui era donna Edoardo. Ce l'aveva tutta, insomma. Peppino si era accorto, si accorse, poverino, che il papà non stava molto bene, anzi, stava proprio male. Dall'inappetenza. Dice, eh, non mangia più. E' un segnale tremendo. C'è una scena che Peppino ricorda di una famiglia difficile dove vede il padre nella casa, no, in questa casa, nella casa di Via del 2013, dove lui ha ancora 22 anni e è costretto a dare il baciamano e vedere la mano sudata che stava male. Eh, i rapporti con il fratello Edoardo, no, diventano a un certo punto davvero burrascosi, tanto che appunto si spascia la compagnia che avevano formato i tre insieme, i due insieme a Titina. Ma quali erano i motivi del dissapore? Guarda, io non sono stato che un frequentatore fortunato e occasionale di entrambi, in palcoscenico, intendo. Ecco, diciamo. E' amico... Eh, dopo il palcoscenico ci sono anche le scene. Amico di Luca e amico di Luigi, cioè i due figli dei grandi, loro stessi grandi, i dissapore... Lei basta leggere, non basta leggere in realtà il libro di Peppino, perché bisognerebbe sentire anche risuonare l'altra campana e oggi è piuttosto difficile. Eh, certo. Peppino soffrì molto. In impossibile. Da quello che leggo nel libro e quello che io so, per quelle poche confidenze che ho avuto l'agio di prendere da entrambi, soffrì moltissimo perché non si scioglieva solo una compagnia, di cui Peppino, essendo un grandissimo attore, era parte fondamentale, si scioglieva una famiglia, si erano amati, si erano voluti bene assai. Leggere quelle pagine commuove le pagine di cui Peppino racconta dello strazio che ebbe... Una famiglia del sud, cioè dove il valore della famiglia, no? Erano attori di una stessa compagnia, quindi erano fratelli due volte. Chi è attore in compagnia non dimenticherà mai i suoi soldati. Non hai capito i motivi del... Erano motivi, vai a capire, non mi azzardo, perché lì è un ginepraio, un ginepraio di interessi, magari di contesa, di concorrenza, di duole doverlo dire. Di visione diversa del teatro. Di una visione diversa del teatro, questo però all'inizio, negli anni 30-40, non era così. Andrano in disaccordo per il terzo atto della famiglia Cupillo. Questo fu l'elemento clamoroso. E infatti per tutto il tempo, sia Peppino che Edoardo, rimandano a quel famoso terzatto, che poi è un capolavoro la famiglia. E' un capolavoro. Grandissimo, ribadisco, Peppino è un attore che avrebbe potuto accettare anche di essere diretto da altri. Infatti Michele, quando poi avviene questa separazione, Peppino assume, diciamo, da un punto di vista professionale, una sua identità con personaggi straordinari. Peppagone, no? Peppagone fu il personaggio televisivo. Che cosa straordinaria, Peppagone. Ecco, oggi ti rinvio per curiosità alla supponenza ostentata da tanta critica altolocata italiana per questa maschera della commedia dell'arte. Che non fu accolta dal trionfo che avrebbe meritato. Perché portava in televisione un grande messaggio, quello della tradizione italiana del primattorato, del carattere. Peppagone nel teatro all'antica italiana, che ha una sua regola, poteva essere considerato un primo carattere. Che poi è la genealogia delle maschere italiane, di cui lui, Peppagone, interpretava perfettamente caratteri, pose, stili e linguaggio. Io sono cresciuto con Peppagone, quindi come dire, l'ho nel sangue in qualche modo. Michele, hai conosciuto De Peppino, ce l'hai detto, no? Per fortuna, ma con il rispetto che un giovanissimo regista e attore, quale io ero, doveva portare a questo grande. E tentai di entrare anche nella sua compagnia. E dopo un'attenta riflessione si stava per concludere quando, fortunatamente per la compagnia, e sfortunatamente per me ebbe un altro lavoro a Roma e la cosa non si concluse. Ma credo che lui mi abbia conservato considerazione. Luigi, il figlio, mi ha conservato considerazione e amicizia. E di questo lo ringrazio. Anche lei, signora De Mattia, Peppino lo ha conosciuto, si ricorda? No, diciamoli conosciuto di passaggio. Di passaggio. Di passaggio. Però a un certo punto a lei viene in mente... Hai visto come ha fatto che... Di passaggio. È bellissimo. È un giusto teatrale. L'ho conosciuto di passaggio, è perfetto, è teatro puro, sarebbe piaciuto a Peppino. No, però io vorrei capire questa sua voglia di iniziare delle ricerche particolari. In che cosa consistano? No, le dico che è cominciato per caso, quella sera che Peppino, noi avevamo un luogo... Passando, passando, no? No, noi avevamo un luogo di raduno a Via Bavsan, proprio dove c'era la casa, l'edificio in cui ha abitato la famiglia di Filippo. E passò, in un certo momento, passò Peppino di Filippo, era il mese di febbraio della metà degli anni 70, con questo sorrisetto sotto i baffi cordiali, lo scrocchio leggero delle scarpe. Mi sembrava, guardando, di stare in una scena... Dalla banda degli onesti. Dalla banda degli onesti. Perché lo scricchiolino delle scarpe, ma è meraviglioso, è idea sua sicuramente, eccolo lì, quel genio insieme a Giacomo Furia, caro amico anche lui e Totò. Beh, lo scricchiolino delle scarpe denunciava lo scarto... L'aver speso, l'aver speso, l'aver speso, l'aver speso dei soldi, cioè lo scarto... Che poi non era vero. Che non era vero. Comunque era diventato abbiente, perché uno che ha le scarpe che fanno chic, 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 chic... È abbiente. Eh, sono particolari, di una bellezza assolta. Però torniamo alle ricerche. Beh, Peppino salì le scale di questa strada che si chiamano a Via Bavsan, che portano la strada superiore della via Vittorio Curtolla, e dentro una galleria d'arte che era proprio si chiamava Vittorio Colonna la galleria si chiamava la barcaccia forse oggi si chiama Vittorio Colonna no adesso c'è un ristorante va bene ecco il tipico colloquio napoletano adesso vanno avanti un quarto d'ora a dire che poi il padre dei proprietari era nipote l'ingresso era stato creato dai proprietari i proprietari si chiamavano Carosio che erano parenti allontano di Nicolò e corrispondeva proprio alla casa dove aveva abitato Vittorio Filippo infatti in un libro scritto da Carlo Raso c'è proprio che lui va dalla proprietà della barcaccia la proprietà della barcaccia di testimonia che Peppino ha riconosciuto in quei locali la sua vecchia casa da quell'incontro si scatenò poi tra di noi che eravamo presenti una discussione perché io gli sei entrato nella casa Natale perché la mia nonna aveva queste notizie gli altri invece dissero no quello è nato alla sanità cosa stai scambiando questa discussione è una particolare era presente a questa discussione una persona anziana che era nata nel 1899 un certo Michele Capozzi il quale disse io da piccolo ho giocato con i De Filippo in quel cortile ci gettevamo gli zoccoli una parte con l'altra da un balcone all'altro per i De Filippo per i De Filippo quel balcone infatti Peppino lo dice nel libro quel balcone è stato il loro primo palcoscenico perché Edoardo lo richiama nella soave sublime sintesi del colloquio con il professore parlando di come si fa il caffè perché il balcone è il palcoscenico naturale di Napoli allora per trovare gli scontri di quello che mi aveva detto mia nonna andai prima nella chiesa dell'ascensione dove questo signor Michele Capozzi mi aveva detto che erano stati battezzati tutti e tre andiamo alla sintesi che succede? trovai l'atto di battesimo trovai l'atto di battesimo che era nato in Vico Ascensione 12 Vico Ascensione 12 non esisteva in quel periodo ho fatto una ricerca all'ufficio toloponomastica del comune è arrivato è arrivato che Vico Ascensione era quella parte superiore di via Bausa hai capito? e con questo abbiamo risolto un grosso problema per il sindaco di Napoli perché perché la parte inferiore la parte inferiore via Bausa è tagliata i due da quella strada che via potremmo continuare per ora tu ti devi andare a leggere una pagina delle memorie di Peppino ve lo consiglio nella vita difficile in cui lui sa che la moglie sta per partorire e anzi è proprio la carrozza insomma mi sono rotte le acque per essere chiaro lui lo dice e lui prende un calesse prende una carrozza per andare a prendere il medico solamente che dice una frase il cocchiere è sordo quindi diventa una gang perché il portiere sbaglia continuamente in questa strada dice il termine era tipo veloce o qualcosa del genere il portiere si chiamava veloce di nome quindi lui pensò veloce andiamo a Chiatamone e lui lo porta alla stazione una gang assoluta ma lo stampino con cui è stato fatto Peppino De Filippo l'hanno buttato via? no perché Luigi è un grande attore come è stato un grande attore Luca no direi di no perché anzi col tempo è ancora più affettuosa la mia stima quindi adesso lui dirige il teatro Parioli a Roma che porta il nome di Peppino ma tu hai interpretato delle commedie hai messo in scena delle commedie ho messo in scena qualche anno fa una bellissima commedia di Peppino che si intitola eccola vedo delle immagini siamo preparati vi siete documentati Lelia Mangano a sinistra è la moglie di Peppino la vedo Sebastiano Monaco è la ragazza che ho appena ritrovato nell'amicizia di qualcuno qui in studio che è molto brava ha fatto l'accademia la commedia si intitolava si intitola tutt'ora non è vero ma ci credo ed è una storia del divertentismo di un ricco signore napoletano un imprenditore nel ramo alimentare il quale però ha il difetto di essere superstiziosissimo ma perché i napoletani sono superstiziosi no no non tutti diceva Edoardo essere superstiziosi ed analfabeti non crederci porta sfortuni porta sfortuni quindi per te d'altro canto non è vero ma ci credo sembra l'abbia detto Benedetto Croce si dice che anche illustri rappresentanti della sinistra più razionalista più attaccata diciamo soltanto alle verità comprovabili poi girassero con i chiodi storti nel panciotto il chiodo storto in teatro porta buono se l'attore trova un chiodo deve essere storto però in palcoscenico lo conserva perché porta buono se cade un copione in teatro quando lo prende lo devi sbattere tre volte per terra perché si dice caduto il copione cade la commedia meglio evitare e quindi boom boom tre volte però si può fare con tutto anche con la patina io vi ringrazio mi avete fatto sentire a casa per mezz'ora grazie davvero grazie Michele Mirabella grazie Antonio Antonio e Maria grazie davvero è arrivata la Briella allora ci ritroviamo domani no io sono mezza mezza metà del sud metà del sud metà del sud io incrocio origini molisane con emiliane quindi insomma sono un misto sono un blend dicevano allora allora domani torniamo puntuali 15 e 15 vi porteremo in viaggio tra i pastori di ieri e quelli di oggi sarà un viaggio immerso nella bellezza della natura tra tradizioni ma anche presenti a domani a domani grazie ci aspettiamo grazie 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 a tutti grazie a tutti